Tragedia alla Castellina dove un uomo di 88 anni si è suicidato con un colpo di fucile al petto. Il cadavere è stato trovato nel giardino pubblico di via del palco. A fare la tragica scoperta stamani intorno alle 7 sono stati gli operatori di ASM sul posto per il consueto servizio di pulizia. Il corpo è radagiato ai piedi di un traliccio. Immediato l'allarme con l'intervento della polizia è del 118. Secondo una prima ricostruzione la morte risalirebbe alla scorsa notte. La vittima, un ex artigiano, viveva da solo dopo la morte della moglie e abitava in un appartamento non distante dal giardino dove si è ucciso. Sempre stamani intorno alle 8.30 una donna di 74 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava in piazza Europa. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce d'Oro ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Per fortuna però le condizioni della donna non sarebbero gravi. Sul posto le pattuglie della polizia municipale. Nel tardo pomeriggio di ieri invece singolare incidente per una ciclista di 46 anni che mentre stava facendo un giro in bicicletta sulla ciclabile che costeggia il Bisenzio e lungo viale Marconi ha perso l'equilibrio ed è caduta giù. Il volo di circa 7 metri si è concluso tra la vegetazione lungo la riva del fiume. La donna è stata recuperata dai vigili del fuoco e poi portata in ambulanza al Santo Stefano con qualche ammaccatura ma per fortuna senza nessuna grave ferita.